Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel panorama del true crime, a differenza di quanto avviene nelle fiabe, i mostri non sono creature grosse dalla folta peluria, occhi rossi e zanne affilate. Sono semplicemente uomini, a volte anche dall'aspetto davvero innocuo. È il 1999 e ci troviamo a Baton Rouge, la capitale dello stato della Louisiana. È sempre stata la seconda città della Louisiana dopo New Orleans, la quale però ha visto notevolmente ridursi la propria popolazione a metà del 2005, dopo il disastro dell'uragano Katrina. Oggi è un pittoresco centro culturale plasmato dalle varie influenze europee che l'hanno attraversato, sere della Louisiana State University e del famoso Tiger Stadium. Ma negli anni 90 alcune zone di questa città vengono descritte come luoghi molto ospitali, mentre altre zone risultano piuttosto pericolose, quindi non è sicuro vivere lì. Il tasso di criminalità è estremamente alto, si registrano molti omicidi e nelle aree intorno a Baton Rouge circolano in contemporanea diversi serial. In questo contesto si inseriscono anche un sacco di bande che vendono stupefacenti e numerose passeggiatrici che lavorano in strada. Dunque non è un evento insolito per la polizia di Baton Rouge essere informata sul ritrovamento di un cadavere. Il 5 gennaio del 1999 alcuni cacciatori di scoiattoli contattano la polizia perché hanno appena scoperto il corpo di una giovane donna nera vicino a un remoto cantiere in costruzione all'estremità di una strada rurale nella zona est di Baton Rouge. La polizia arriva sul posto ed esamina le condizioni della donna deceduta. Già c'è terra nuda, è sdraiata sulla schiena e sembra sia stata messa in posa, infatti ha un braccio posizionato sopra la testa e una gamba artificiosamente piegata. Presenta ferite su tutto il corpo e non ci sono dubbi, è stata brutalmente assassinata. Secondo uno dei detective coinvolti nel caso, le ferite che ricoprono la donna dalla testa ai piedi le sono state inferte tramite un coltello. Ma non si tratta di una serie di pugnalate sparse in tutto il corpo, bensì sembra che la vittima sia stata affettata. Infatti riporta delle lunghe lacerazioni sulle gambe e ulteriori ferite da taglio su tutta l'area del busto. Inoltre ha subito anche una coltellata alla gola e una intorno alla zona dell'occhio sinistro. L'assassino le ha squarciato le palpebre e i segni che la donna presenta intorno al collo indicano che l'ha anche strangolata tramite un oggetto qualificato o come una legatura o come una fascetta di plastica. Insomma, il massacro a cui è stata sottoposta questa povera donna fa davvero orrore, ma c'è un dettaglio che rende ancora più sadico l'operato del killer. Cioè, l'assassino ha disposto il corpo nudo della vittima proprio sotto un cartello che indica un vicolo cieco, situato alla fine di una strada di campagna. Chiaramente non si tratta di un gesto casuale, l'omicida ha pensato che fosse una mossa divertente o sagace. Il vicolo cieco sta proprio a indicare che la vita della donna è giunta inesorabilmente al termine, senza via di uscita e di salvezza. Quando è arrivata sulla scena del crimine, la polizia ha immediatamente notato l'assenza di uno spargimento di sangue consistente, giugendo così all'ipotesi che la donna era stata uccisa altrove e successivamente portata in questo luogo per essere abbandonata. Tuttavia non si rileva molto sangue neanche sul cadavere. E questo è strano data la quantità di ferite che gli porta. Al contrario, la vittima avrebbe dovuto essere ricoperta di sangue, ma la polizia, dopo una rapida indagine, è in grado di dare una spiegazione all'assenza del sangue, ovvero la maggior parte delle ferite da taglio che la donna presenta sul corpo le sono state inflitte post mortem. L'assassino quindi prima l'ha uccisa e poi ha mutilato completamente il suo corpo con un coltello. La donna era già deceduta a causa dello strangolamento e di una ferita da taglio nello specifico, quella inferta sul collo. Questa conclusione rivela già molto sull'autore del reato. Non è l'aspetto omicida del crimine che gli procura piacere, bensì l'atto di mutilazione che compie dopo l'assassinio. Sul cadavere. La polizia perlustra in vano la scena alla ricerca di eventuali prove, ma durante l'autopsia viene trovato un pelo pubico all'interno della bocca della vittima. Dopo un test, gli scienziati sono in grado di determinare che proviene da un maschio bianco. È altrettanto urgente identificare la donna assassinata. Qual è il suo nome? La polizia analizza le sue impronte digitali nel database e fortunatamente emerge una corrispondenza. Questa donna, infatti, in passato era stata arrestata per un crimine minore e le sue impronte le identificano come Catherine Hall, una 29enne che viveva a North Street, a Baton Rouge. Anche se online non sono disponibili molte informazioni su Catherine, si legge che aveva dei problemi di dipendenza da stupefacenti e lavorava come passeggiatrice proprio per riuscire a comprare le sostanze. Catherine quindi usciva sempre di notte, da sola, e camminava per le strade alla ricerca di clienti. Era scomparsa la sera prima che il suo corpo fosse ritrovato nella notte del 4 gennaio. Forse era stata rapita e uccisa da qualcuno che fingeva di essere un cliente. Una volta avviata l'indagine, il giorno successivo al rinvenimento del corpo di Catherine, la polizia individua la sua carta d'identità e la giacca che indossava quella notte. Si trovano in una zona situata a 20 miglia dal luogo di abbandono del corpo. La giacca in particolare è appoggiata su un recinto macchiato da notevoli schizze di sangue. Anche nei dintorni abbondano le tracce di sangue, quindi la polizia sostiene di aver individuato il luogo del delitto. Catherine era stata ammazzata a circa 30 miglia di distanza dal punto in cui poi è stata trovata. Questa teoria viene avvalorata da diverse prove che la polizia raccoglie vicino alla recinzione, tra cui una fascetta in plastica che viene esaminata con molta attenzione. Emerge che la fascetta combacia con i segni evidenti sul collo di Catherine, quindi è questa l'arma che l'assassino aveva usato per strangolarla. Sfortunatamente sulla giacca non si rileva nulla che sia catalogabile come una prova forense. La polizia non riesce a individuare le impronte digitali appartenenti all'autore del reato o delle tracce di DNA. Purtroppo col tempo il caso si arena, non viene identificato alcun sospettato. La polizia sa soltanto che si tratta di un maschio bianco. I giorni trascorrono senza ottenere risposte e si trasformano in settimane. Le settimane si convertono in mesi e i mesi diventano anni. Con la prolungata assenza di nuove prove, l'omicidio di Catherine resta irrisolto. Passano più di quattro anni da questo delitto, ma nel 2003 si verifica un altro omicidio brutale. È l'11 ottobre del 2003 quando un ragazzino in sella la sua bicicletta pedala lungo un'area boschiva non lontano dalla casa in cui vive vicino alla parrocchia di East Baton Rouge. Il ragazzino è affiancato dal proprio cane che a un certo punto scompare, così il suo padrone inizia a girare nell'area boschiva per tentare di ritrovarlo. È a questo punto che si imbatte nel corpo senza vita di una giovane donna. Il ragazzino, allarmato, telefona immediatamente a suo padre per avvisarlo dello sconvolgente ritrovamento. Inizialmente il papà non gli crede neanche, convinto che il suo figlio gli stia facendo uno scherzo, ma siccome il ragazzino continua a insistere, l'uomo lo raggiunge nel bosco. Suo figlio gli mostra il cadavere e lui chiama la polizia. Gli agenti arrivano rapidamente sulla scena e capiscono subito di trovarsi davanti a un omicidio. Scoprono che la vittima è una donna nera, giaccia a terra faccia in giù, ha le braccia serrate sotto il corpo ed è completamente nuda. Proprio come nel caso di Catherine Hall, il suo corpo è stato reciso in alcuni punti. Presenta dei tagli sulla parte posteriore delle gambe che le sono stati inflitti post mortem. Come vi ho detto, le braccia della donna sono posizionate sotto il corpo in questo modo e quando la polizia la gira, scopre che le sono state mozzate le mani, una mutilazione che era avvenuta sempre a seguito della sua morte. Forse l'assassino aveva agito così nel tentativo di nascondere l'identità della donna, rendendo impossibile identificarla tramite le impronte digitali. La polizia provò comunque a cercare le mani della vittima, spera che l'assassino le abbia gettate in un'altra parte del bosco, ma sfortunatamente non riesce a individuarle. Come nel caso di Catherine Hall, è chiaro che anche questa donna è stata uccisa altrove. Infatti si riscontra un'assenza di tracce di sangue sulla scena del rinvenimento del corpo. E ancora, come nel caso di Catherine Hall, viene stabilito che anche questa donna è deceduta a causa di uno strangolamento. Anche in lei infatti si evidenzia un solco sul collo, un solco molto simile a quello individuato su Catherine Hall. Quindi probabilmente anche questa vittima era stata strangolata tramite una fascetta di plastica. La polizia raccoglie tutte queste prove e riscontrate queste somiglianze è in grado di collegare l'omicidio di Catherine Hall, avvenuto nel 1999, all'omicidio di questa donna, avvenuto nel 2003. Ricapitolando, entrambe le vittime sono donne nere, entrambe sono state strangolate, poi accoltellate e mutilate post-mortem, e infine ritrovate senza vestiti, in zone tranquille, anzi remote, a East Baton Rouge. Quando la polizia riesce a identificare la seconda vittima, si rende conto che le somiglianze non finiscono qui. La seconda donna è la 45enne Johnny Mae Williams, madre di tre figli. È proprio una delle sue figlie che la identifica, dopo aver chiamato la polizia per denunciare la scomparsa della propria madre. Il confronto tra il DNA della ragazza e quello della vittima fa emergere una corrispondenza quasi esatta. Quindi la donna assassinata è davvero sua madre. Johnny Mae Williams era una persona gentile, amichevole e premurosa. Era bravissima a cucinare e a fare le acconciature, infatti molto spesso pettinava i capelli alle sue amiche. Anche lei, come Catherine, aveva lottato contro dei problemi di dipendenza e si era ritrovata a fare la passeggiatrice. Anche lei usciva da sola di notte alla ricerca di potenziali clienti. Ecco l'ennesima somiglianza tra le due vittime di omicidio. C'è però una differenza. Johnny era scomparsa circa nove mesi prima che il suo cadavere venisse scoperto, come detto, nell'ottobre del 2003. Dunque era scomparsa ed era presumibilmente stata uccisa nel gennaio di quello stesso anno. Ecco perché il suo corpo era già gravemente decomposto quando l'hanno ritrovata nel bosco. Un'altra somiglianza tra i due casi è che anche durante l'autopsia di Johnny May Williams, un pelo di provenienza dell'assassino, viene trovato addosso alla vittima. Nello specifico su un polso, nel punto in cui le era stata mozzata la mano. Questo pelo viene confrontato con il pelo pubico ritrovato nella bocca di Catherine ed emerge la corrispondenza, a conferma di ciò che la polizia presumeva. Questi due omicidi sono collegati. Sia Catherine Hall che Johnny May Williams sono stati uccise dallo stesso colpevole. Purtroppo ancora una volta, nonostante gli sforzi dei detective per identificare il duplice assassino, le indagini non danno risultati e anche questo caso si raffredda. Rimane irrisolto. Dopo qualche mese però sembra che il misterioso assassino abbia colpito ancora. È la mattina del 27 febbraio 2004 e una coppia sta camminando lungo Benito Road. Come il ragazzino in bici sta cercando il proprio cane, smarrito lungo una strada a East Baton Rouge. Mentre avanzano vicino a un ponte, i due notano un manichino che giace in un canale di scolo, al di sopra di un mucchio di cespugli. Presto però si rendono conto che quello non è affatto un manichino, ma è il corpo senza vita di una donna. Di conseguenza chiamano la polizia. Il cadavere appartiene a una donna bianca, è riverso a faccia in giù nel canale di scolo e chiaramente disposto in una posa precisa. La vittima è nuda, ma c'è una giacca che le copre il braccio destro. Quando la polizia si avvicina e scosta la giacca, si rende conto che il braccio della donna è stato tagliato all'altezza del gomito. Gli agenti provano a cercare l'arto mancante, ma non lo trovano da nessuna parte. Anche il corpo di questa terza vittima è stato mutilato in diversi punti, inoltre anche lei riporta delle ferite da taglio. Manca un pezzo di carne di forma quadrata sulla sua coscia destra e anche i capezzoli le sono state rimossi. Quando la vittima viene identificata, la polizia scopre chi aveva il tatuaggio di una farfalla su una delle gambe e anche quel pezzo di pelle è stato reciso. Di nuovo, tutti i tagli sono stati inflitti alla donna post mortem. Viene anche scoperto un segno di legatura sul collo e l'autopsia conferma che è stata strangolata. Anche in questo caso emergono molte somiglianze con il delitto di Catherine e, di conseguenza, con quello di Johnny. Dunque questa terza donna è l'ennesima vittima dello stesso introvabile assassino, un serial che, da anni, si aggira per le strade di Baton Rouge. Le impronte digitali hanno permesso l'identificazione di questa terza vittima, una donna di 43 anni di nome Donna Bennet Johnston. Era madre di due figli e uno dei due si chiama Justin. Justin descrive sua madre come una grande donna, era molto affettuosa e premurosa, non passava il giorno in cui non ricordasse i suoi figli quanto li amava. Purtroppo, nonostante Donna facesse del suo meglio per essere una madre impeccabile, aveva problemi di dipendenza, proprio come le vittime precedenti. Anche lei finanziava la sua dipendenza facendola passeggiatrice e non era un evento raro che Donna sparisse per brevi periodi di tempo. Alla fine tornava sempre a casa, ma non nel febbraio del 2004. Infatti era uscita e nessuno l'aveva più vista. Dopo la scoperta del corpo di Donna, diventa chiaro che questo serial ha preso di mira un gruppo specifico di persone, ovvero le passeggiatrici, in particolare coloro che stavano combattendo contro la dipendenza dalle sostanze, dunque dei soggetti più vulnerabili. Erano tutte donne alla disperata ricerca di soldi, purtroppo incappavano in varie situazioni pericolose che le hanno rese delle facili vittime per l'assassino. Il colpevole è riuscito ad avvicinarle senza sforzi, fingendo di essere un cliente, cosicché le sue prede salissero volontariamente nel suo veicolo. Come potete immaginare, in questo periodo i cittadini di Baton Rouge sono terrorizzati, soprattutto le passeggiatrici. Per queste donne andare in strada di notte è un lavoro, hanno bisogno di soldi, quindi non intendono sottrarsi a questa incombenza, ma ciò non toglie che ora escano con maggiore spavento. Il patologo che conduce l'autopsia su donna, la terza vittima, conclude che lei aveva combattuto fino alla fine per cercare di salvarsi. Infatti il DNA dell'assassino viene trovato sotto le unghie della mano che non le è stata mozzata, e questo vuol dire chi aveva provato a graffiarlo e a respingerlo. Il DNA in questione viene confrontato con i peli recuperati dai corpi di Johnny e di Catherine, e affiora ancora una volta la corrispondenza. Il DNA ricavato viene inserito nei database della polizia, ma non si ottengono risultati. Questo vuol dire che il colpevole, in passato, non è mai stato condannato per un crimine. Ma fortunatamente la polizia, indagando sul caso di donna, trova altre prove. Si ritiene che provengano dal veicolo dell'assassino che aveva trasportato il corpo di donna nel canale di scolo. Viene eseguito un calco delle tracce degli pneumatici e sottoposto all'analisi di un esperto di una concessionaria di automobili, che è in grado di indicare alla polizia qual è il tipo esatto di pneumatici che ha lasciato le tracce. Fortunatamente si tratta di pneumatici piuttosto rari, infatti a Baton Rouge ne sono stati venduti circa 200. La polizia quindi riesce a risalire all'elenco di ogni singolo acquirente di questi pneumatici della città di Baton Rouge e prende nota di tutti gli uomini bianchi presenti nella lista. Sono circa un centinaio. Come ricorderete, infatti, fin dal primo omicidio la polizia aveva assodato che il colpevole era un uomo bianco. La linea di indagine da seguire prevede di rintracciare ogni componente cerchiato nell'elenco, interrogarlo e chiedergli di fornire volontariamente un campione di DNA. In questo modo la polizia può comparare i DNA degli interrogati con quello dell'assassino, nella speranza che emerga una corrispondenza. Come preannunciato, la polizia si reca da questi uomini uno a uno, però man mano che vengono quasi tutti esclusi dalle indagini, nessuno di loro risulta collegabile agli omicidi, fino a quando si arriva a uno degli ultimi uomini presenti nella lista. Quando la polizia va a parlargli pensa immediatamente che potrebbe essere il serial ricercato ormai da anni. Siamo, come vi ricordo, nel 2004. L'uomo che ha attirato l'attenzione della polizia si chiama Sean Vincent Gillis, ha circa 50 anni e vive con la sua ragazza di nome Terry Lemoyne. In questo periodo è disoccupato, non ha precedenti penali e ha l'aria di essere un bravo uomo. A Sean affascina la fantascienza, ama Star Trek e all'apparenza non sembra una persona capace di commettere quegli atroci crimini contro le donne. Allora perché la polizia sospetta di lui? Beh, perché la sua macchina ha gli pneumatici che corrispondono a quelli che la polizia sta cercando. Dunque, il 24 aprile del 2004, gli investigatori vanno a casa di Sean per parlare con lui dei delitti. I detective siedono con Sean e gli spiegano che stanno indagando su tre casi di omicidio di donne avvenuti a Baton Rouge. Sean dice di averne sentito parlare al telegiornale e rivela che era un buon amico di una delle tre vittime, ovvero Johnny May Williams. La donna per un periodo aveva lavorato a casa sua in veste di collaboratrice domestica. Sean riferisce anche che lui e Johnny andavano spesso in giro con la sua macchina e che ogni tanto fumavano insieme. Afferma che, a un certo punto, lui e Johnny avevano addirittura iniziato una relazione intima, probabilmente all'insaputa di Terry. Dopo una rivelazione del genere, la polizia non riscontra soltanto un potenziale collegamento tra Sean e gli omicidi a causa degli pneumatici montati sulla sua macchina, ma fronteggia un effettivo collegamento tra Sean e una delle vittime. I detective quindi gli rivolgono alcune domande sulle scene del ritrovamento dei tre cadaveri. Gli chiedono se per caso abbia mai frequentato quelle zone e lui ammette che va spesso nell'area di Benito Road, dove Donna Bennett, la terza vittima, era stata ritrovata. Gli piace sedersi in quel campo verde e fumare la sostanza leggera in tranquillità. Sean spiega anche di aver percorso molte volte quella zona alla ricerca di funghi. Apprese tutte queste informazioni, la polizia si focalizza su Sean, soprattutto perché lui ha pienamente ammesso di avere un legame con due delle tre vittime. Era un buon amico di Johnny, in più era stato numerose volte sulla scena del crimine dove era stata ritrovata donna. Certo, forse si tratta di una coincidenza, o forse no. Questi collegamenti possono stare a significare che è lui l'assassino. Sean diventa così un sospettato abbastanza valido per la polizia, che adesso ha bisogno di analizzare il suo DNA. I detective gli chiedono se è disposto a fornire un campione e lui accetta immediatamente. Mentre il campione di DNA viene inviato al laboratorio per eseguire i test, i detective continuano a parlare con Sean e gli chiedono se è disposto a seguirli alla stazione di polizia. Vogliono fargli ulteriori domande. Una volta entrati nella sala interrogatori, gli investigatori intendono approfondire con Sean il caso di donna. Sapeva esattamente dove era stato ritrovato il suo corpo? Sean afferma di no, perché tutte le informazioni che conosce le ha prese dal telegiornale, dunque sa che è stata ritrovata in un canale di scolo, ma non conosce il punto esatto. Poi la polizia si sofferma sulle tracce degli pneumatici, le quali indicherebbero che il corpo di donna era stato trasportato proprio da qualcuno che aveva una macchina con degli pneumatici identici a quelli del veicolo di Sean. Vi ricordo che la maggior parte degli uomini bianchi che aveva acquistato questo tipo di pneumatici è già stata esclusa dall'indagine. Quindi i detective gli dicono chiaramente che quelle tracce di pneumatici sono state lasciate proprio dalla sua auto, ma Sean nega, afferma di non essere l'assassino. Non è stato lui a trasportare con la sua macchina il cadavere di donna nel luogo del ritrovamento. Ciò nonostante i detective lo pressano, ma lui continua a negare qualsiasi coinvolgimento in questi omicidi. Insiste nel dire che l'unica ragione per cui le tracce degli pneumatici della sua macchina potrebbero essere lì è perché lui si era spesso fermato in quella zona a fumare. L'ultima volta in cui era stato da quelle parti aveva avvertito l'urgenza di andare in bagno, quindi aveva fermato la macchina vicino al punto in cui è stato trovato il corpo senza vita di donna. Insomma, Sean sembra avere una risposta pronta a tutto. Per ogni circostanza sospetta che la polizia gli fa notare, lui tira fuori una sorta di spiegazione. Ma facciamo un esempio. E vi dico già che si tratta di una delle scuse più bizzarre che io abbia mai sentito. Durante l'interrogatorio, mentre i detective parlano con Sean della sua macchina, viene tirato in ballo il sangue che forse è presente nel veicolo. Non è chiaro come siano finiti su questo argomento, ma forse Sean ha detto qualcosa del tipo «O comunque se vi capita di perquisire la mia macchina e per caso trovate del sangue, non vi preoccupate, non è niente di strano». Aggiunge, ascoltate bene, che in quel periodo la sua compagna Terry aveva il ciclo mestruale e sanguinava così copiosamente da far sembrare che nella macchina di Sean fosse avvenuto un massacro. Queste sono parole sue, non mie. Sean dice che il sangue aveva ricoperto tutto il sedile anteriore della macchina dove Terry era seduta. La polizia allora gli risponde «Ok, potremmo trovare del sangue sul sedile anteriore, ma non dovrebbe essercene sul sedile posteriore, giusto?». E evidentemente Sean non può escludere l'eventualità che il sangue venga trovato anche sul sedile posteriore, quindi prontamente afferma «Beh, avevamo i finestrini aperti quando lei aveva il ciclo, e sapete, il sangue era volato ovunque nella macchina, il vento probabilmente lo avrà spinto pure sul sedile posteriore. Ora ho bisogno di fare una pausa per esprimere un commento personale, perché credo che questa spiegazione sia la più assurda che io abbia mai sentito in vita mia. Trovo incredibile che quest'uomo abbia pensato che una scusa del genere potesse risultare credibile. «Il sangue mestruale che vola? Ma davvero?». In ogni caso, l'interrogatorio non si ferma qui, i detective continuano a porgergli delle domande e Sean, alla fine, inizia a perdere la pazienza. Infatti si alza, dice che ne ha abbastanza e vuole tornare a casa, non intende più rispondere alle loro domande. A questo punto la polizia deve lasciarlo andare, perché non ha ancora nessuna prova concreta che lo colleghi ai crimini. Attualmente la polizia è in possesso soltanto di prove circostanziali, dato che sta ancora aspettando i risultati del test di DNA. Quindi, senza prove sufficienti, Sean non può essere arrestato o accusato. Intanto gli viene permesso di tornare a casa, ma viene anche messo sotto sorveglianza, dato che la polizia non vuole rischiare che lui si lasci prendere dal panico e scappi. Fortunatamente le prove di cui gli investigatori hanno bisogno sono letteralmente dietro l'angolo. Infatti, appena un paio d'ore dopo che Sean ha lasciato la stazione di polizia, arrivano i risultati dei test. I detective vengono informati tramite una chiamata dal laboratorio che il DNA di Sean Gillis corrisponde al DNA del serial che stanno cercando. Il suo profilo genetico dunque coincide con i peli recuperati dai corpi di Catherine Hall e Johnny May Williams e anche con il sangue ritrovato sotto le unghie di Donna Bennett Johnston. La polizia finalmente ha delle prove concrete per collegare Sean a questi orribili omicidi, quindi può arrestarlo. Ma prima di andare oltre con la narrazione del caso e parlarvi del suo arresto, vi fornisco ulteriori informazioni interessanti sul passato di Sean Gillis. Nasce il 24 luglio 1962 proprio a Baton Rouge, quindi ha vissuto lì per tutta la sua vita. I suoi genitori si chiamano Norman e Yvonne Gillis, ma Norman non è rimasto presente nella vita di suo figlio Sean molto a lungo. Era un uomo incredibilmente violento, aveva problemi di alcolismo e sfogava la sua frustrazione sia su sua moglie che sul piccolo Sean. Un giorno Yvonne era entrata in casa e aveva visto suo marito Norman puntare una pistola alla testa di Sean che in quel momento era solo un bambino. L'uomo minacciava di sparargli addosso davanti agli occhi di Yvonne. Successivamente a questo evento Norman viene ricoverato in una struttura di salute mentale, quindi Sean viene allevato dalla madre e anche i nonni la aiutano mentre il bambino cresce. Se il padre di Sean era un uomo abbottante, pare che sua madre Yvonne fosse l'esatto contrario. Si diceva che fosse assolutamente ossessionata da suo figlio, si era sempre presa cura di lui e lo aveva inondato di amore e affetto. Tuttavia, sia Yvonne che i nonni non si interessavano particolarmente alla vita scolastica di Sean che era uno studente mediocre. Durante l'adolescenza pare che Sean avesse iniziato a sviluppare un forte interesse per i rituali satanici e la morte, tanto che lui e suo cugino erano soliti intrufolarsi nelle cerimonie organizzate in casa prima di inserire il corpo del defunto nella bara e ricarsi al funerale. Ebbene, lui e suo cugino amavano nascondersi nelle bare. Sean aveva iniziato a pensare di commettere un omicidio per la prima volta intorno all'età di soli 12 anni. Rivela questo dettaglio alla polizia quando viene catturato, ricorda che voleva uccidere sua cugina solo per poterle palpare il seno. Alcune fonti affermano che Sean era un po' prepotente con gli altri ragazzi e che si arrabbiava molto facilmente. Più o meno all'età di 17 anni aveva iniziato a commettere alcuni reati piuttosto lievi come possesso di sostanze leggere e guida in stato di ebrezza. Era stato anche arrestato un paio di volte, ma non era mai stato condannato. Ecco perché il suo DNA non era presente nei database della polizia. Dopo essersi diplomato, Sean aveva frequentato un community college per un periodo di tempo e aveva cambiato spesso lavoro, principalmente perché odiava lavorare. Era abituato a essere coccolato da sua madre e lei, come detto, faceva di tutto per lui. Il punto è che Sean non voleva che le attenzioni della mamma si riducessero soltanto perché lui era cresciuto. Sean non aveva alcun desiderio di costruirsi una solida carriera. Ciò che voleva fare era rimanere seduto in casa tutto il giorno per usare il computer e guardare video a luci rosse particolarmente violenti per la maggior parte del tempo. Sean in seguito confesserà che ha addirittura delle fantasie intime su sua madre Yvonne e rivela agli agenti di polizia che, se lei fosse morta all'improvviso, probabilmente lo avrebbero trovato a letto con il suo cadavere. Sean in realtà aveva vissuto con sua madre fino all'età di 29 anni. Poi nel 1992 Yvonne aveva trovato un lavoro ad Atlanta, in Georgia. Di conseguenza doveva trasferirsi lì. Yvonne ovviamente aveva cercato di convincere Sean a spostarsi ad Atlanta insieme a lei, ma lui si era rifiutato dato che voleva rimanere a Baton Rouge. Yvonne quindi alla fine aveva traslocato senza di lui, ma gli aveva lasciato la sua casa e aveva accettato di continuare a pagare ogni spesa relativa all'abitazione anche in futuro, pur non vivendo più lì, ma non voleva o poteva fare diversamente dato che Sean ancora non aveva un lavoro. Sean, nonostante questo enorme regalo che gli aveva fatto sua madre, era furioso con lei perché si sentiva abbandonato. I vicini affermano di averlo visto uscire di casa di notte e di averlo sentito maledire sua madre per la sua scelta di essere andata via. Sean si sentiva così solo, tuttavia questa brutta sensazione di solitudine non era durata lungo perché nel 1994 aveva incontrato la donna che sarebbe diventata la sua compagna, Terry Lemoyne. Terry e Sean si erano conosciuti tramite un amico in comune, andavano molto d'accordo e avevano interessi simili. Entrambi erano affascinati da tutto ciò che riguarda la fantascienza, quindi avevano iniziato a frequentarsi. Terry sostiene che provava una sensazione di sicurezza quando era vicino a Sean, non si era mai sentita in pericolo in sua presenza, lui non era mai stato violento nei suoi confronti, non aveva mai alzato la voce. Terry descrive Sean come un orsacchiotto, si è sempre sentita protetta da lui, il che se ci pensate è pazzesco. Sean poteva essere estremamente gentile con Terry, nonostante si fosse comportato come un sadico predatore con le altre donne da lui uccise. Terry non aveva idea che si nascondesse questo lato così malvagio in lui. Si era trasferita nella casa della madre di Sean e i due avevano iniziato a convivere. Lei aveva un lavoro a tempo pieno come direttore notturno di un minimarket, mentre lui era rimasto disoccupato. Dato che Terry lavorava di notte, era molto facile per Sean allontanarsi e commettere un omicidio senza che lei lo sospettasse. La sera dopo che Terry usciva di casa, Sean saliva in macchina e girava nella zona nord di Baton Rouge, dove parecchie passeggiatrici erano al lavoro. Terry in realtà aveva poi iniziato a notare che Sean usciva spesso la sera perché lo faceva anche quando lei non lavorava. Spesso Terry si svegliava nel cuore della notte e si rendeva conto che Sean non era più nel letto accanto a lei. Allora si alzava, lo cercava in vano per casa e scopriva così che era uscito a notte fonda, senza avvisarla. Ogni volta che Sean rincasava e Terry gli chiedeva dove fosse stato, lui non sapeva cosa rispondere, quindi tergiversava. Le diceva frasi tipo «Oh tesoro, non preoccuparti, dovevo occuparmi di una cosa importante» e cambiava immediatamente discorso. Terry in realtà era arrivata a pensare che Sean la stesse tradendo. Secondo lei usciva di notte per incontrare un'altra donna con cui aveva iniziato una relazione. Ma noi sappiamo che questa spiegazione è ben lontana dalla realtà. C'erano un paio di altre cose che Terry aveva notato durante il periodo della follia omicida di Sean, cose che le sembravano molto strane. Racconta che un giorno Sean era andato a prenderla a un punto di incontro stabilito, ma quando lei era salita in macchina aveva immediatamente avvertito un odore disgustoso che impregnava il veicolo. Quella puzza tremenda Terry la ricorda come la più insopportabile che avesse mai sentito. Infatti aveva subito chiesto a Sean da cosa dipendesse. Lui aveva risposto che durante il tragitto aveva investito accidentalmente un animale e uno schizzo di sangue era finito sulla sua macchina. Ecco l'origine del cattivo odore. Immagino che Terry non avesse un motivo per non credergli, anche se a mio avviso questa spiegazione non regge affatto, proprio come quella del sangue mestruale che Sean fornirà ai detective. Terry in effetti aveva pensato che la spiegazione di Sean fosse strana, ma non aveva ragioni per ipotizzare che il suo compagno avesse ucciso qualcuno in quella macchina e che stesse trasportando il cadavere di una delle sue vittime nel bagagliaio. Ma questa è la verità che poi verrà a galla. Terry all'epoca non immaginava minimamente che l'uomo con cui condivideva la casa e il letto fosse un feroce assassino. Lei lo amava davvero? Terry scopre questa cruda realtà quando Sean viene arrestato a seguito della corrispondenza del suo DNA con quello dell'omicida di Catherine Hall, Johnny May Williams e Donna Bennett Johnston. Infatti la sera del 29 aprile 2004 gli investigatori ottengono il mandato d'arresto e tornano all'indirizzo di Sean con una squadra SWAT. Arrivano nei dintorni a luna di notte. La squadra entra in casa e si fa strada fino alla camera da letto di Sean. Gli agenti lanciano all'interno della stanza un fumogeno per disorientarlo e impedire un suo eventuale tentativo di fuga. Lo arrestano mentre è ancora a letto accanto a Terry che è decisamente spaventata e confusa. Urlando domanda a Sean cosa stia succedendo. L'uomo le risponde scusa coniglietta dolce. Terry allora chiede spiegazioni agli agenti e uno di loro le dice non sapevi di vivere con un serial? Sean viene immediatamente riportato alla stazione di polizia dove avviene un altro interrogatorio e questa volta non nega né smentisce nulla. Presumo avesse intuito che essendo stato arrestato la polizia aveva raccolto delle prove concrete contro di lui quindi che senso aveva sostenere la propria innocenza? Sean ammette chiaramente di essere lui l'assassino e si definisce un mostro. Precisamente dice sono così stanco di questo mostro mi possiede. Confessa di aver ucciso Catherine, Johnny e Donna. spiega che quando le vittime salivano nel suo veicolo lui afferrava una fascetta e gliela stringeva velocemente attorno al collo per sottometterle completamente al suo controllo. Sean durante l'interrogatorio mostra anche agli investigatori come agiva esattamente. La sua confessione però non si limita a ricostruire gli omicidi di Catherine, Johnny e Donna. Infatti Sean rivela alla polizia di aver ucciso più persone. Le indagini però non erano riuscite a collegarlo a questi altri crimini. Sean confessa gli omicidi di altre 5 donne in tutto quindi le sue vittime sono 8. Il primo delitto che Sean aveva commesso era avvenuto molto tempo addietro ossia lo stesso anno in cui lui aveva incontrato la sua compagna Terry nel 1994. La vittima era una donna di nome Anne Bryan ed era molto più anziana delle sue altre prede infatti aveva 81 anni e viveva in una casa di riposo di Baton Rouge quando Sean l'ha uccisa. Nella tarda serata del 20 marzo 1994 Sean aveva fatto irruzione nella casa di riposo che era non lontana dalla sua abitazione ed era entrato nella camera da letto di una donna Anne. La porta della sua stanza era stata lasciata aperta perché quella notte un'infermiera sarebbe dovuta andare a controllare che la signora stesse bene. Sean racconta alla polizia che inizialmente le sue intenzioni erano quelle di limitarsi a esercitare violenza su Anne non voleva ucciderla tuttavia appena l'aveva toccata l'anziana signora aveva iniziato a urlare lui aveva tentato di zittirla ma non c'era verso. Siccome quella donna continuava a gridare Sean aveva estratto un coltello e l'aveva pugnalata per metterla a tacere. Le fonti riportano che Anne era stata coltellata più di 50 volte principalmente sulla zona del petto e della testa ma Sean gli aveva anche tagliato la gola e l'aveva pugnalata persino ai genitali. L'orrore a cui è stata sottoposta questa povera donna è tremendo e il giorno seguente il personale della struttura l'aveva ritrovata senza vita e reduce dal massacro. La polizia non aveva idea di chi potesse essere l'assassino non aveva tracciato piste valide da seguire quindi anche questo caso si era raffreddato almeno fino alla confessione di Sean avvenuta più di un decennio dopo la morte di Anne. Un'altra vittima di Sean che non gli era stata attribuita lui l'aveva ammazzata dopo Catherine Hall uccisa nel gennaio del 1999 quindi a seguito dell'omicidio di Catherine Sean aveva assassinato una donna di nome Hardy Mosley Schmidt nel maggio di quello stesso anno Hardy aveva 52 anni ed è l'unica vittima che Sean aveva perseguitato prima di uccidere l'aveva vista la prima volta mentre era fuori a fare jogging e aveva intuito che quella era un'attività a cui la donna si dedicava abitualmente Sean aveva osservato Hardy di nascosto per tre settimane mentre correva aveva scoperto la sua routine quotidiana dove viveva a che ora usciva per fare jogging e quale strada percorreva finché il 30 maggio 1999 aveva deciso di colpire mentre Hardy correva Sean l'aveva quasi investita con la macchina e la donna si era buttata in un fosso per schivarla poi il criminale era sceso dalla macchina le si era avvicinato mentre lei era ancora rifugiata nel fosso le aveva stretto una fascetta attorno al collo che lui chiama oggettivatore e l'aveva trascinata nella sua automobile una volta a bordo la aveva portata in una zona tranquilla dove l'aveva uccisa infine si era approfittato del suo corpo senza vita aveva nascosto il cadavere della donna nel bagagliaio per un paio di giorni prima di abbandonarlo nel luogo del ritrovamento quel momento combacia temporalmente con l'evento raccontato da Terry quando era salita in macchina del suo compagno aveva sentito una puzza nauseabonda come detto Sean le aveva mentito spiegandole che il tanfo proveniva dal sangue di un animale che aveva accidentalmente investito circa sei mesi dopo Sean aveva ucciso una donna di 36 anni di nome Joyce Williams e anche questo delitto gli era stato attribuito non sono note le circostanze esatte che avevano portato al rapimento di Joyce ma Sean l'aveva fatta salire a bordo della propria macchina il 12 novembre del 1999 e l'aveva uccisa aveva poi portato il corpo di Joyce a casa sua mentre Terry era al lavoro per uno dei suoi turni di notte Sean aveva disteso il cadavere di Joyce sul pavimento della cucina e come racconta la polizia era rimasto quasi ipnotizzato nel guardare le gambe della sua vittima erano davvero belle quindi aveva deciso di tagliarne una e di conservarla ancora non soddisfatto una volta finito aveva anche scelto di inciderle e rimuoverle i capezzoli alcune fonti affermano che quei capezzoli Sean le avesse addirittura mangiati non si sa cosa avesse fatto con la gamba tagliata a Joyce e con le parti del corpo mutilate alle altre vittime dato che non sono mai state ritrovate e su questo Sean non ha mai dato indicazioni in seguito al delitto di Joyce Sean aveva provato a pulire la cucina come meglio poteva tuttavia quando anni dopo la scientifica perquisisce la sua casa paragona le assi del pavimento illuminate dal luminol a un albero di Natale quindi le tracce residue di sangue erano ancora visibili nel gennaio del 2000 Sean aveva ucciso ancora un'altra donna la 52enne Lillian Robinson madre di tre figli secondo le fonti anche lei era una passeggiatrice con problemi di dipendenza inoltre era un alcolista Sean approcciando a lei aveva finto di essere un cliente così come aveva fatto per avvicinare le altre donne in strada il corpo di Lillian era stato ritrovato circa un mese dopo l'omicidio in una zona paludosa circa 30 miglia da Baton Rouge ve l'ho accennato all'inizio video questa città è un territorio dove proliferano i serial ecco perché molti omicidi non sono stati collegati a Sean fino alla sua confessione infatti nel periodo in cui Sean scatena la sua folle omicida c'era un altro famigerato killer di nome Derek Todd Lee che mieteva vittime sempre a Baton Rouge dunque per la polizia risultava difficile accertare a chi appartenevano le vittime colpite vi faccio una piccola nota a margine dovete sapere che quando Derek Todd Lee è stato catturato i media lo hanno ribattizzato il serial di Baton Rouge poi quando anche Sean Gilles viene arrestato siccome pure lui ha operato nella stessa città gli viene affibbiato il nome di l'altro serial di Baton Rouge dopo l'omicidio di Lilian Robinson Sean si era fermato per nove mesi poi nell'ottobre del 2000 aveva ripreso a uccidere ammazzando la 38enne Marilyn Neville come da copione anche lei era dipendente dalle sostanze e aveva problemi di alcolismo Sean dopo averla tirata nella sua macchina e uccisa aveva gettato il suo corpo non lontano da dove verrà trovata Donna Bennett Johnston vicino al fiume Mississippi quanto a Johnny May Williams abbiamo già parlato di lei e sappiamo che era stata uccisa nel gennaio del 2003 vi ricordo che Sean aveva riferito alla polizia che lei era una sua amica ma l'aveva brutalmente uccisa Sean racconta anche ai detective che dopo averle tagliato le mani le aveva messo lo smalto aveva fatto quindi una manicure alle sue mani mozzate poi quattro mesi dopo più precisamente nel febbraio del 2004 Sean aveva ucciso la sua ultima vittima Donna Bennett Johnston Sean racconta di aver portato anche il corpo di Donna a casa sua e di aver fatto una doccia insieme al suo cadavere per Sean la fase in cui uccideva le vittime era quella meno eccitante del crimine infatti non si beava dell'atto di togliere la vita a qualcuno bensì gli piaceva fare violenza sui cadaveri quindi apprezzava la fase successiva all'omicidio era quello il suo scopo disporre di un corpo immobile e senza vita da avere tutto per sé Sean amava anche fare sperimentazioni su questi corpi per questo li tagliava e li mutilava come se fossero stati dei suoi giocattoli infatti per Sean le donne erano solo oggetti con cui amava divertirsi quindi eravamo arrivati al momento in cui la polizia ottiene la confessione di Sean e la registra in ogni caso questa dichiarazione di colpevolezza non è l'unica prova che i detective hanno contro di lui come accennato c'è la prova dell'Uminol che evidenzia una massiccia presenza di sangue sul pavimento della sua cucina inoltre la polizia scrupolosamente ispeziona anche il computer di Sean e trova 45 fotografie che lui aveva scattato al cadavere di donna Bennett Johnston nelle numerosissime foto in cui l'aveva ritratta l'aveva sistemata in diverse posizioni proprio per custodire gelosamente una ricca varietà di macabri trofei a dir poco preziosi per Sean le foto sono infatti importanti per lui perché guardandole può rivivere con la mente le sue orribili azioni e goderne di nuovo le prove contro Sean sono quindi solide la polizia è certa che al processo si riveleranno schiaccianti che il mostro verrà condannato almeno per la maggior parte se non per tutti gli omicidi commessi del resto lui stesso li aveva confessati e la polizia lo ha registrato mentre lo faceva di certo sarebbe bastato far partire quel nastro in tribunale e la giuria lo avrebbe indubbiamente incriminato all'unanimità e invece contro ogni aspettativa della polizia il caso si rivela molto ma molto più complicato infatti durante il primo interrogatorio di Sean Gillis prima della confessione l'indagato aveva espresso a uno dei detective la volontà di farsi assistere da un avvocato più precisamente aveva detto sai penso che avrei davvero dovuto portare un avvocato quando si verifica una circostanza del genere cioè quando un sospettato sotto interrogatorio richiede la possibilità di avvalersi di un legale la polizia deve sospendere tutto finché non gli viene assegnato un avvocato ma questo nel caso di Sean non è avvenuto e a causa del gigantesco errore commesso da parte della polizia viene stabilito che la confessione di Sean è inammissibile in tribunale già pur in presenza di una registrazione la prova più importante e solida della polizia viene invalidata il processo inizia nel luglio del 2008 e Sean Gillis viene inizialmente incriminato soltanto per gli omicidi di Catherine Hall Johnny Maya Williams e Donna Bennett Johnston questo perché senza considerare l'inammissibile registrazione con la sua confessione sussiste ugualmente la prova del DNA che collega Sean ai tre delitti in questione inoltre i detective possiedono anche una lettera che una donna di nome Tammy Pereira aveva consegnato ai pubblici ministeri affinché la ricapitassero a Sean già arrestato e finito in prigione Tammy era una buona amica dell'ultima vittima di Sean ossia donna e voleva risposte alle tante domande che la perseguitavano giorno e notte cosa aveva fatto esattamente a donna? Quali erano stati i suoi ultimi momenti di vita? Sorprendentemente Sean aveva risposto a Tammy e voglio leggervi un estratto di questa terribile lettera donna era così ubriaca che le c'è voluto circa un minuto e mezzo per soccombere all'incoscienza e poi alla morte in verità le sue ultime parole sono state non riesco a respirare sono ancora perplesso riguardo lo smembramento e ai tagli post mortem deve esserci qualcosa nella profondità del mio subconscio che ha davvero bisogno di quel tipo di azione macabra Tammy aveva consegnato la lettera con la risposta di Sean agli inquirenti affinché la usassero come prova contro di lui e alla fine del processo Sean viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado per i tre delitti in questione l'accusa spera che gli venga inflitta la pena di morte ma a causa della situazione di stallo della giuria Sean viene condannato a tre ergastoli senza possibilità di libertà condizionale questo vuol dire comunque che morirà in prigione viene inoltre accusato dell'omicidio di secondo grado della sua quarta vittima Joyce Williams tuttavia dato che la registrazione con la sua confessione non può essere usata in tribunale Sean non può essere condannato per tutti e otto gli omicidi di cui si era già detto l'artefice alcuni articoli presenti online riportano che Sean è stato condannato anche per l'omicidio di Marilyn Neville ricevendo un'altra condanna all'ergastolo ammesso che sia così perché non ne sono sicura Sean viene condannato per cinque omicidi ma ne rimangono ugualmente tre per cui resta impunito si ritiene che li avesse effettivamente commessi visto che li aveva confessate alla polizia in prima persona ne parla chiaramente nella registrazione purtroppo gli omicidi di Anne Bryan Hardy Smith e Lillian Robinson non hanno ottenuto giustizia il che è terribile per le famiglie di queste vittime sì non avrebbe fatto differenza considerato il risultato della condanna visto che Sean deve scontare cinque ergastoli senza la possibilità della libertà condizionale quindi comunque non verrà mai rilasciato ma possiamo immaginare che per le famiglie delle altre vittime sarebbe stato importante condannarlo anche per aver ucciso le donne a loro care Sean Vincent Gillis è ancora vivo a 61 anni ed è detenuto nel penitenziario dello stato della Louisiana vi ho così raccontato il caso del mostro come si è autodefinito lo stesso Sean Gillis tante persone sospettano che in realtà lui abbia ucciso molte più vittime rispetto alle otto che ha confessato forse ha scelto di parlare soltanto di alcuni omicidi per conservare almeno nella sua mente un territorio dove mantiene ancora un po' di controllo concludo il video facendovi una domanda secondo voi questo assassino potrebbe aver ucciso altre donne soprattutto all'inizio della sua attività secondo me è possibile perché Sean agiva per assecondare la propria irrefrenabile pulsione il suo modus operandi fa di lui un serial raccapricciante come del resto lo sono molti altri come sempre realizzo questi video per ricordare le vittime e anche per interrogarci su quanto può essere contorta la mente umana cosa spinge un uomo a uccidere delle donne e a deturpare così i loro corpi problemi mentali traumi infantili fantasie disturbate e mancanza di empatia quale teoria rappresenta di più questo serial fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso nei commenti sono curiosa davvero di leggerli e confrontarci detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.